Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Con queste parole il sindaco di Miglionico, utilizzando l'analogia del principio della chimica, si rivolge a Guido Claps, parlando della signora Filomena, sua madre e mamma di Elisa. Donna che con grande coraggio ha saputo trasformare il suo dolore per la perdita dell'amata figlia in forza e determinazione alla ricerca lunga e tortuosa della verità. Il contesto è l'inaugurazione di un nuovo spazio nel centro polivalente ed amoroso fuoco destinata alla biblioteca, biblionico, del piccolo borgo del Materano. Nell'occasione è stato presentato il volume Sono io, Elisa Claps, di Maria Grazia Zaccagnino, presente all'evento, dinanzi a un pubblico di giovanissimi, gli allunni della secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo di Miglionico. Una giornata bella ma struggente che ancora una volta, e non sarà mai abbastanza aggiungo, accende i riflettori sulla vicenda di Elisa e la sua famiglia. Sono io, Elisa Claps, è un libro, riferisce l'autrice, che racconta e parla di Elisa e non del caso giudiziario. Quindi ho occasione e opportunità di capire, conoscere e sapere a cosa aspirava Elisa attraverso le pagine del suo diario. È cambiato proprio il paradigma anche del racconto. Non è più il caso Claps, ma adesso è Elisa, nei suoi pensieri più intimi e che è arrivata a tutti attraverso il libro che abbiamo presentato oggi di Maria Grazia, attraverso la fiction che è andata in onda nei mesi scorsi ed è un regalo straordinario che ci ripaga di questi 30 anni difficilissimi, dolorosi. Non è solo la memoria a fine a se stessa, ma è una memoria che sta accompagnando anche le nuove generazioni. Oggi c'erano le scuole medie e i ragazzi sono assolutamente pronti a ricevere questo messaggio che sta passando e di questo io e la mia famiglia non possiamo che esserne felici. Ma io credo che il messaggio principale sia quello sicuramente di non arrendersi mai di fronte alle difficoltà, soprattutto quando si ricerca la verità e la giustizia e quello che è accaduto nella storia di Elisa, che credo sia emblematica in questo senso e soprattutto il messaggio relativo a quello che sta accadendo purtroppo troppo di frequente in questi ultimi mesi. Le tante donne vittime di violenza, come lo è stata Elisa 30 anni fa, credo che sia dovere di tutti far sì che se ne parli. Io sono dell'idea che più se ne parli più la cultura su questo tema cresce e probabilmente se ciascuno di noi fa una piccola parte potremmo evitare forse domani un ennesimo omicidio. Ecco, per concludere Gildo, come si trasforma la rabbia, la frustrazione in determinazione e coraggio? Ma non lo so qual è la ricetta. Noi è successo, la nostra famiglia ha attraversato chiaramente degli anni difficilissimi. quello che sicuramente ho imparato è che non bisogna in storie come queste farsi consumare dall'odio perché l'odio consuma e invece trasformare queste vicende in qualcosa di costruttivo. L'ho fatto nel 2002 insieme a Don Marcello fondando Penelope. Lo faccio oggi con incontri come questi che, come dicevo, non solo restituiscono ad Elisa il suo ricordo e la fanno arrivare a tutti ma soprattutto sono di insegnamento perché quello che è accaduto non si ripete mai più. Un'emozione unica perché abbiamo avuto il piacere e l'onore di espitare la famiglia Claps per degli eventi legati al femminicidio. Noi oggi inauguriamo un presidio di cultura che è biblionico e come primo libro catalogato abbiamo il libro di Elisa Claps che racconta un po' quello che è la vita interiore di Elisa Claps non la Elisa Claps che conosciamo dagli atti processuali. Quindi quello che viene fuori da questo libro è quello che era scritto che Elisa scriveva nei suoi diari. Elisa viene fuori attraverso i suoi pensieri più intimi, le sue riflessioni, le sue emozioni che come tutti noi della nostra generazione consegnavamo a un diario, il nostro caro amico segreto. Elisa lo faceva, ha consegnato a questo diario i suoi pensieri più intimi che ne hanno tracciato una personalità forte ma al contempo molto dolce, molto orientata verso il prossimo. Quindi davvero molto buona e generosa così come la descriveva la sua mamma. Però a volte i ricordi sono filtrati, si tende a parlare sempre bene di chi non c'è più. Elisa invece era veramente buona e generosa e lo racconta lei stessa attraverso le pagine del suo diario. Il consiglio che mi ha dato da sempre è continuo a darmi mamma Filomena. Lei mi dice, rivolgendosi alle mie figlie, dice le devi smaliziare, cioè preparare ai pericoli della vita, alla cattiveria, e insegnare loro che nella vita non c'è soltanto, non ci sono solo cose belle e positive ma c'è anche la cattiveria. Tutti noi siamo una luna e vediamo soltanto la parte illuminata ma ciascuno di noi ha il suo lato oscuro. Ecco, il ruolo dei educatori, genitori, insegnanti è proprio quello di preparare i più piccoli all'insidia, alle cattiverie della vita e soprattutto a sentirsi, a farsi comunità, a non girarsi mai dall'altro lato in caso di problematiche anche a scuola, denunciare, parlare, affrontare anche le proprie emozioni e se possibile scriverle così da riconoscerle. Mamma Filomena ha fatto anche di più insieme alla sua famiglia, non ha soltanto trasformato il dolore per la perdita della figlia ma lo ha sublimato perché da questo grande dolore oggi è nato un progetto benefico in Africa. Io qui porto la maglietta con il nome del progetto Il cuore di Elisa nel cuore dell'Africa perché nella Repubblica del Centrale del Congo è stato allestito un ambulatorio medico tra le baracche dove c'è una delle tante guerre civili e realizzando un po' il sogno di Elisa che era quello di diventare medico e prestare la propria opera in Africa, quindi a servizio degli ultimi. Per cui anche se Elisa fisicamente non c'è più, il suo sogno lo stiamo realizzando, continua a crescere e continuiamo a piantare nuovi semi. L'evento si è concluso con la dedica di una panchina rossa in piazza Castello alla memoria di Elisa.